L'attività dell'ASP per tamponare l'emergenza nel pronto soccorso, come vi state muovendo? Abbiamo bandito un apposito avviso per reperire medici extracomunitari, dopo che sono andati quasi deserti i due concorsi che abbiamo fatto, sia un tempo determinato che un tempo indeterminato. Abbiamo una grossissima carenza di organico, su 73 posti vacanti, su 73 posti previsti nella dotazione organica, solo 27 sono in questo momento occupati e gli altri sono vacanti. Quindi proprio per dare una grossa mano d'aiuto ci siamo inventati questa possibilità proprio per dare ai nostri colleghi un aiuto concreto. Lo stiamo cercando di divulgare quanto più possibile questo avviso verso gli stati stranieri e cominciano ad arrivare le prime domande. Una volta che saranno arrivate saranno effettuate tutte le verifiche relative ai titoli posseduti e una volta fatto questo potremmo metterli in servizio. Eliporto? Finalmente anche il presidio di Trapani, insieme a quello di Castelvetrano e di Marsala, ha un eliporto e quello di Trapani in questo momento è stato autorizzato dall'Enac e i voli anche notturni. Questo significa che la rete dell'emergenza urgenza sicuramente fa un grosso passo avanti perché eventuali emergenze che arrivano in elisoccorso non debbono più durante le fasce notturne atterrare a Birgi a circa 20 minuti di strada dal presidio ospedaliero ma potranno atterrare in loco e quindi con una tempestività di intervento. Un'ASP, un'azienda ospedaliera in generale, l'empreggio di Trapani, sempre più umana, tant'è che è fatta la specifica, noi lavoriamo con le persone, non con i pazienti. Spieghi questo concetto, importante, fondamentale, assolutamente dignitoso. Penso che da quando mi sono insediato l'obiettivo che mi sono posto era proprio quello della cura delle persone proprio perché prendiamo in carica le persone e non semplicemente i pazienti quindi è l'aspetto non semplicemente sanitario ma anche quello sociale che noi vogliamo portare avanti. E questo decalogo che oggi abbiamo presentato serve proprio a questo, a far capire alle persone che arrivano all'interno dei nostri presidi ospedalieri così come delle altre strutture sanitarie anche territoriali, hanno dei diritti, hanno dei doveri. E' un rispetto reciproco, è un'accoglienza che vogliamo dare a chi arriva in ospedale dando la possibilità di curare soprattutto un aspetto che in questo momento non c'era perché professionalmente sicuramente abbiamo degli operatori validi. In questo momento vogliamo creare un percorso di umanizzazione. Significa che i nostri comportamenti devono essere dettati ad una migliore accoglienza delle persone che arrivano all'interno delle nostre strutture. Per farlo abbiamo iniziato, abbiamo investito risorse per la formazione del nostro personale.